Eminenza, Papa Francesco incontra i giovani di tutto il mondo a Cracovia, la città di San Giovanni Paolo II, l'ideatore delle GMG. Pensa che riprenderà i temi principali del Magistero di Karol Vuitila per i giovani? Beh, certamente. Il Papa Francesco si porrà sullo stesso cammino iniziato da Giovanni Paolo II e poi naturalmente anche percorso da Papa Benedetto XVI, un cammino con i giovani, un cammino di fede, di speranza e di carità. Un cammino che ha una meta, ecco, e la meta è sempre la stessa, cioè l'incontro con Gesù Cristo, l'incontro con Gesù Cristo, la proposta che il Papa continuerà a fare a tutti i giovani che parteciperanno alla giornata mondiale. Un cammino che ha una mappa e questa mappa è il Vangelo, ecco, è l'insegnamento, il Magistero della Chiesa e che ha anche un nutrimento, un pane che è l'Eucarestia. Quindi cambiano gli scenari, ovviamente sono diversi, diversi continenti, diversi paesi, ma, diciamo, il cammino continua, c'è una continuità, ecco, in questo cammino. E mi pare che per quanto riguarda il Magistero di Giovanni Paolo II possiamo sottolineare anche il fatto che questa giornata mondiale della gioventù si colloca nel cuore dell'anno santo della misericordia. E dire misericordia significa fare riferimento a una parte fondamentale dell'eredità magisteriale e spirituale di Papa Voitiva, di San Giovanni Paolo II, il quale appunto ha dedicato una delle sue prime encicliche, la Dives in misericordia, proprio alla realtà della misericordia. E poi ha preso molte altre iniziative proprio per sottolineare, ecco, questo aspetto. Basterebbe ricordare la canonizzazione di Santa Faustina nell'anno santo e ancora l'istituzione della Domenica della Divina Misericordia, nella Domenica in Albis, la seconda Domenica di Pasqua. Quindi ecco, Giovanni Paolo II ha sottolineato molto questo aspetto che sarà ripreso proprio da Papa Francesco nel corso di questa giornata per accendere questa scintilla, la scintilla della misericordia nei cuori dei giovani e far divampare il fuoco della misericordia in tutto il mondo secondo il tema della giornata «Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia». Cracovia è anche la città di Santa Faustina Kowalska, l'apostola della Divina Misericordia. Il passaggio della Porta Santa alla Ghienivki sarà uno dei momenti forti di questo Giubileo? Il Papa l'ha detto chiaramente anche nel messaggio che ha indirizzato ai giovani che parteciperanno, che questo passaggio sarà un andare verso Gesù Cristo e sarà un lasciarsi guardare da Lui, un incontrare il suo sguardo misericordioso, per poter dirgli con tutta la fiducia e con tutto l'abbandono quella preghiera che ci è stata insegnata appunto da Santa Faustina «Gesù confido in te». Io direi che questa sarà l'esperienza anche del Papa, sarà Lui il primo a fare questa esperienza ad incontro personale con il Signore, ecco questa esperienza della Divina Misericordia. Quindi il Papa concretamente si recherà nel Santuario della Divina Misericordia. Credo che da quanto so lì dovrebbe anche ascoltare alcune confessioni, proprio ecco, cioè esercitare il Ministero della Misericordia, pregare, ecco, pregare anche nei luoghi dove è vissuta Santa Faustina e soprattutto nella cappella dove ha avuto la maggior parte delle visioni e dove ha scritto i suoi diari da cui è nata appunto questa particolare devozione, questa particolare spiritualità di Gesù misericordioso e poi insieme con tutti gli altri pellegrini passare la Porta Santa. Il Papa torna nel cuore dell'Europa e con la Polonia visita il primo grande paese europeo dopo il viaggio a Strasburgo. Cosa dirà all'Europa di oggi? Beh, evidentemente il viaggio, questo viaggio è un viaggio alla giornata mondiale della gioventù, quindi immagino che il Papa non si rivolgerà direttamente né alla Polonia, paese che ospita questa iniziativa, né all'Europa direttamente, ecco perché appunto ha davanti a sé i rappresentanti giovani, i rappresentanti di tutto il mondo, anche se è vero che questa giornata si svolge in un paese che nel cuore dell'Europa immagino che la maggior parte dei giovani ecco che vi parteciperanno verranno soprattutto dall'Europa. E per quanto riguarda l'Europa il Papa ripeterà a questi giovani, credo, il messaggio che già tante volte ha espresso in più occasioni a partire dal Parlamento di Strasburgo e poi in occasione della consegna del premio Carlo Magno. Direi che si può raccogliere questo messaggio in due parole, un messaggio di speranza di fronte al futuro dell'Europa e di fronte anche alle tante sfide che sono poste davanti alla costruzione europea e un messaggio di coraggio, un messaggio di coraggio nel senso di riscoprire quelle che sono le autentiche radici cristiane dell'Europa, ecco, che hanno permesso all'Europa di diventare quello che è. Il Papa ricordava soprattutto questo spirito umanistico che l'ha sempre caratterizzata e nello stesso tempo anche coraggio che significa saper annunciare il Vangelo nelle mutate condizioni di vita in cui si trova e di fronte appunto ai grandi problemi che si trova ad affrontare ogni giorno, soprattutto direi io il problema delle grandi povertà sia spirituali che materiali. A Cestocova, davanti alla Madonna Nera, il Papa ricorderà il 1050esimo anniversario del Battesimo della Polonia. La comunità cattolica polacca riesce ancora ad essere testimone di questa fede o il secolarismo sta facendo in qualche modo breccia? Ecco, io sono molto contento di questo fatto perché il Santo Padre mi ha privilegiato con la nomina a suo legato in aprile scorso, in occasione della stessa circostanza, quindi sono stato a Poznan e a Gniesno e ho presieduto le celebrazioni per i 1050 anni del Battesimo della Polonia che in un certo senso completano, ecco, completano quello che è mancato nella celebrazione del millenario quando lo sappiamo, ecco, dato allora la situazione politica della Polonia, è stato impedito a Papa Paolo VI di andare come aveva ardentemente desiderato. Quindi, ecco, ci sarà quasi una continuità con questa celebrazione di 50 anni fa ed è una celebrazione prima di tutto di ringraziamento. Ecco, il Papa va a ringraziare insieme con la Chiesa polacca, con i pastori, con i fedeli per questi mille anni di fede cristiana, no? E anche, direi, anche per quello che è successo in questi ultimi 50 anni, la ritrovata libertà, la possibilità di esprimere liberamente la propria fede. Ecco, io credo che la Chiesa polacca, per quello che ho potuto vedere anche direttamente durante la visita che ho fatto e anche le precedenti visite, è una Chiesa ancora forte, è una Chiesa viva che, unita ai suoi pastori, continua a testimoniare la fede anche nelle mutate circostanze attuali. Ecco, ci sono tante famiglie buone, ci sono tanti giovani che ancora si impegnano nella formazione e nella vita cristiana, c'è slancio missionario, c'è desiderio di apostolato. Quindi ci sono vocazioni ancora, vocazioni alla vita sacerdotale e alla vita religiosa. Quindi un tessuto che ancora, a mio parere, fondamentalmente tiene, ecco. Certo che è chiamato a rispondere alle nuove sfide, come lei ricordava prima, la fida principale è proprio questa, del secolarismo, quindi della perdita del senso di Dio e del vivere come se Dio non esistesse nelle nostre società. In questo senso la Chiesa polacca dovrà essere creativa e aperta appunto a trovare modalità nuove anche per rispondere a questi nuovi problemi. Gli orrori di Auschwitz e di Birkenau e le sofferenze dei bambini dell'ospedale pediatrico. Ecco, incontrando le sofferenze di ieri e di oggi, il Papa ricorderà la testimonianza di chi ha dato la vita per gli altri, come San Massimiliano Colbe? Sì, ecco, interessante che il Papa, fin dall'inizio, quando si voleva programmare, cioè si stava programmando, questo viaggio ha voluto questi due momenti, no? E io le definirei un po' il luogo dell'orrore e il luogo del dolore. Ecco, il luogo dell'orrore, Auschwitz-Birkenau, la testimonianza di San Massimiliano Colbe, l'olocausto del popolo ebraico, quindi più orrore di così. Ed è una presenza che significa soprattutto un richiamo. Sarà un richiamo silenzioso perché il Papa non farà discorsi in quella circostanza, ma io credo che di fronte agli orrori, ecco, il silenzio a volte più eloquente delle stesse parole, ma sarà un richiamo e un ricordo di tutte queste vittime dell'odio e della pazia umana, no? Per ricordare che ancora oggi purtroppo esistono situazioni di violenza, di disprezzo della vita umana, ecco, di disprezzo della persona, situazioni in cui si fomenta la divisione, situazioni in cui si usa il terrore, il terrorismo per degli interessi personali o per la costruzione, ecco, di interessi economici e politici. E, d'altra parte, ecco, l'aspetto dell'ospedale come vicinanza al dolore delle persone. Questo il Papa richiama spesso, no? Che la Chiesa deve essere vicina, ecco, la Chiesa deve essere prossimo, ecco, di tutti quelli che si trovano nella sofferenza. Quindi, chi più dei bambini, ecco, ammalati si trova in questa situazione di necessità di avere qualcuno che sia vicino come buon samaritano. Credo che la visita all'ospedale ha proprio questo significato. Il Papa ne ha fatto, ne ha fatto altri. Mi ricordo che in Messico, mi pare, quando ha visitato un altro ospedale pediatrico, ha parlato della terapia, dell'affetto, l'affetto-terapia. Ecco, anche qui certamente userà la stessa terapia nei confronti, inviterà tutti noi a farlo nei confronti di questi bambini e nei confronti di tutti coloro che soffrono.